Io credo che una siringa la si possa trovare ovunque purtroppo, sottolineo purtroppo in città, nei parchi come per strada, davanti a casa, nel giardino di casa. Stiamo parlando di un fatto accaduto il 14 o 15 di giugno, è passato qualche mese, non mi sembra che tutti i giorni abbiamo un problema di questo tipo. A me pare che sia più preoccupante lo stato di alcuni parchi in termini di degrado, di presenza in determinate situazioni o ore della giornata. Voi sapete che per me la madre di tutte le battaglie non era il regolamento di Polizia Urbana o altri interventi, ma la riorganizzazione del corpo. Cioè avere più agenti preposti alla sicurezza urbana rispetto ad altre incombenze di altro genere, delle molteplici purtroppo attività e competenze che ha la Polizia Locale. Siccome questa riorganizzazione è finita proprio in questi giorni e nei prossimi giorni la presenteremo, oltre che al Comando, a tutti gli agenti, inizieremo a spostare anche con l'arrivo del nuovo comandante, ci si augura dentro la fine di ottobre, inizieremo a fare questo percorso di rinforzo di tutto il reparto di Polizia di Sicurezza, quindi urbana e di Polizia Giudiziaria, i parchi torneranno a essere controllatissimi come facevo 15 anni fa, quando addirittura i nostri uomini si appostavano di notte per beccare gli spacciatori. filmavano, si facevano riduzioni a parchi chiusi, in orari di chiusura, quando si ritrovavano comunque gli spacciatori lo stesso e purtroppo anche i tossicodipendenti e quindi inizierà un controllo a tappeto su tutti i parchi, quindi posso solo dire che nei prossimi mesi, anche se comunque andiamo verso il periodo invernale, che saranno meno utilizzati, ma comunque cambierà completamente il volto anche dei nostri parchi pubblici. Torneremo a fare nei parchi della città centrali, quelli in città, a far girare anche il nucleo di ciclisti, ma torneranno anche le motociclette, cosa che per motivi pseudoambientalisti veniva vietato, la polizia locale se deve controllare un parco non può entrare, se non in rari casi, in macchina, perché ci sono magari strade più grandi all'interno del parco, ma con la moto sì e quindi saranno effettuati i controlli, che ho proprio dato in questa fine settimana scorso, disposizione in tal senso. Quindi invito le mamme a essere buone osservatrici di tutti eventuali fatti, eventi che vadano segnalati, e di segnalarceli perché la risposta c'è e sarà anche pronta. Quindi all'820 5100 segnalare alla nostra centrale operativa dei movimenti sospetti a presenze fastidiose di qualsiasi genere o tipo, bivacchi o quant'altro che non devono stare in un parco pubblico.